Un digiuno perché ho fame di verità, anzi abbiamo perché adesso al digiuno al mio si sono aggiunti varie altre persone in questi giorni, perché sulla questione di Tessera City, della TAV, della Sublagunare, che si riassume in una parola il PAT, non c'è chiarezza, non c'è trasparenza e perciò non c'è democrazia, perché la gente di Venezia, di Mestre, se sapesse cosa c'è scritto dentro veramente in questo PAT piano di assetto del territorio, secondo me si ribellerebbe, non lo sta facendo proprio perché mantengono tutto offuscato, per esempio ti dicono che bisogna fare il quadrante di Tessera perché lì c'è lo sviluppo e l'occupazione, è una balla enorme, se tu fai un'altra città in mezzo alla campagna, in questo momento mandi in crisi migliaia di posti di lavoro che sono quelli del commercio, del piccolo commercio, dei piccoli artigiani, mandi in crisi il futuro di Porto Marghera perché se tu punti lì non punti più, certamente su Porto Marghera, dicono che bisogna che l'alta velocità vada verso Trieste, non è vero, non c'è nessuna domanda, peggio ancora, dicono che questa alta velocità deve andare all'aeroporto e quando mai uno arriva in aereo e prende un treno per andare via? L'alta velocità serve per le lunghe distanze e quindi certamente uno di Milano non viene a Venezia in alta velocità per prendere l'aereo, qui a Linate per prendere l'aereo e tantomeno uno da Roma, l'alta velocità serve per queste distanze, è bene che arrivi a Venezia, è già pronto, il binario da Padova a Venezia, devono fare il quadruplicamento da Verona a Padova, ma non certamente è scontato che devono andare a Trieste, tantomeno che si sfasci il sottosuolo di Mestre, 9 km di galleria per arrivare all'aeroporto, allora la gente che non sa, magari alla fine viene fregata perché in consiglio comunale i consiglieri, metà dei quali non hanno mai letto il PAT e l'altra metà l'ha leggiucchiato in qualche sua piccola parte, ma non certo in tutte le schede, votano così sulla fiducia di questo assessore Micelli che continua a raccontare bugie. Per esempio l'altra bugia che racconta generale sul PAT è che noi facciamo un nuovo piano che cambia completamente l'impostazione e non occuperemo più suolo agricolo, 105 ettari di suolo agricolo a tessera per fare i quadranti tessera, ma come? Hai detto che non occupi più suolo agricolo. Sì, ma l'abbiamo ridotto, ma ridotto da dove? Sono tutti nuovi, addirittura per bypassare altre decisioni e quindi lo chiamano progetto speciale perché così poi alla fine si mettono d'accordo con la regione e passa. E poi facendo il conto di quanti ettari occupano sono altri 378 ettari oltre a questi 105, quindi alla faccia di non occupazione del suolo, alla faccia invece che fare il recupero del verde, invece che fare il restauro delle esistenti, invece che fare una città più bella, stanno facendo un'altra città lì distruggendo la campagna e andando tra l'altro in una zona alluvionata e allagata sistematicamente vicino al Dese e poi creando altri disastri vicino per i trasporti e così via. Parlano di piscina lì ma quando mai la gente va a fare il bagno, prende la macchina per andare in piscina, quando mai? Parlano di questo ma in realtà vogliono fare altro, vogliono fare alberghi, vogliono fare uffici, capannoni, insomma la stessa storia di Veneto City. E su Mestre invece non fanno nessun intervento, anzi stanno peggiorando anche la situazione della città perché nel PAT è previsto di aumentare gli abitanti del comune, mentre Venezia perde abitanti, è passata da 316.000 abitanti nel 1987 a 270.000 scarsi quest'anno, quindi si sta diminuendo di 1.000 abitanti all'anno e si continua a diminuire. Loro prevedono che nei prossimi 20 anni si aumenti di 60.000 gli abitanti. Ma perché lo prevedono? Non perché ci credono, ma perché in questa maniera la legge gli permette di fare i metri cubi per una quantità enorme di edificazioni, che non sono solo il quadrante di Tessera ma per esempio 20 grattacieli a Mestre, 20, 3 sono quelli dell'area dell'ex ospedale Umberto I, 10 attorno alla stazione, altri su via Torino, bene 10 attorno alla stazione, pensiamo solo alla stazione di Mestre, lo schifo che è la stazione di Mestre, che non riesci non a parcheggiare ma neanche a fermarti per far scendere una persona che deve andare a prendere il treno, ebbene lì 10 grattacieli lì attorno, vuol dire che sarà il disastro urbanistico. Ecco questo e tante altre cose, però diciamo l'ultima cosa è la sub lagunare, famosa sub lagunare, per collegare l'aeroporto con Venezia, come se i turisti avessero voglia una volta scesi dall'aereo di andare a Venezia sotto terra come le pantegane, basta mettere un paio di vaporetti grandi, di motonavi che portano 300 persone, che passano una ogni mezz'ora e dai assolutamente risposto alla domanda di collegamento fra Tessera e Venezia. La sub lagunare è un altro business, un altro affare, un altro amici degli amici, perché? Perché a capo del consorzio per la sub lagunare mettono la CTV, allora dicono sì però la sub lagunare sarà a costo zero, ma come a costo zero? C'è il project finance, il progetto di finanza, mettono i privati, ma la CTV è privato per caso? Chi è che paga il bilancio della CTV una volta che andrà in fallimento, perché tutti gli advisor, tutti i tecnici che hanno fatto l'analisi economica della sub lagunare dicono che sarà un fallimento economico, oltre che ambientale. Chi pagherà? Chi